Primo, non mi sembra assolutamente una misura che vada ad aiutare i giovani, perché quando io vado a tassare un reddito che non produce rendita, sia chiaro, sottassando un debito, è debito. Quindi illudo i giovani in realtà, ma poi andrà a ricadere pesantemente sui giovani. Se davvero mi stessero a cuore i giovani e volessi introdurre delle politiche sociali di ascensore sociale, io andrei ad investire necessariamente, primo, sulla produrre lavoro. Rivediamo la tassazione fiscale perché i disoccupati ritornino a lavorare. Allora io, dando da lavorare ai disoccupati, restituisco una concezione di cittadini. Allora la domanda è, che concezione ho io dei cittadini? Ho una concezione di cittadini capaci di produrre il reddito per sé e per gli altri, con la normale sussidiarietà orizzontale e lo Stato si recupera. Il solo ruolo che ha lo Stato, quello di essere capace di un paracadute che interviene lì dove i cittadini... Ma qua erano 10.000 euro a questi ragazzi. Sono lì dove i cittadini non riescono, quindi attenzione, i cittadini hanno il ruolo di produrre il reddito per sé e per gli altri. Si chiama sussidiarietà orizzontale e circolare. Lo Stato interviene come garante paracadute in emergenza che va sanata. Questa è la normalità, produrre il reddito, produrre intraprendenza civile, capacità di produrre lavoro e soprattutto investire sull'istruzione e la formazione. Allora sì che io emancipo i giovani, non dandogli 10.000 euro che ha il sapore, prima della mancetta, poi del sussidio, adesso dell'assistenzialismo sociale. Quanto più ti do, meno ti rendo libero, meno ti emancipo. Per renderti libero ed emanciparti ti devo dare istruzione, formazione, cultura e lavoro.